una delle storie più celebri di tutti i tempi narra di un uomo che viene assassinato il suo fantasma decide così di tornare sulla terra per svelare il nome del proprio assassino alla persona a cui era più legato se hai pensato a ghost il film con patrick schweiz che ha insegnato a tutti come coniugare l'amore con la lavorazione della creta e forse perché hai dimenticato che prima degli smartphone quando si andava al gabinetto non si navigava tra le notifiche ma tra le pagine dei libri l'autore di questa tragedia uno scrittore vissuto tra il cinquecento e il seicento era abbastanza noto per le sue carneficine in ogni suo dramma o tragedia c'erano più morti che in un film di quintin tarantino il suo nome era william shakespeare dovresti averne sentito parlare allora ritorniamo alla nostra vicenda il figlio dello spettro in questione era un giovane irrequieto e misterioso il ragazzo aveva mal digerito il fatto che la madre fosse tornata sull'altare a pochi giorni dalle esegue e per di più proprio con suo zio magari lei lo aveva fatto per assicurare al figlio il trono visto che il nuovo marito non era proprio una persona qualsiasi ma niente di meno che il nuovo re di danimarca o banalmente lo aveva fatto per non restare sola tuttavia come molti giovani anche il protagonista di questa storia aveva un pessimo rapporto con chi lo aveva partorito e non solo per il nome che gli aveva dato amleto pensate che una volta riferendosi a lei amleto aveva esclamato fragilità il tuo nome è femmina un'espressione che oggi gli sarebbe costato un'accusa di sessismo e una valanga di eter ma lui era il principe e poteva permetterselo tanto più perché se qualcuno lo avesse giudicato gli avrebbe tagliato la testa inoltre si era messo in mente di fare il detective e di smascherare l'assassino di suo padre cosa che si risolverà in una delle più catastrofiche indagini della storia del crimine siccome a quei tempi non esistevano gli esami del dna ci si fidava di ciò che dicevano gli spiriti e in questo caso lo spirito in questione era proprio quello della vittima il vecchio re a cui il fratello come vi ho detto aveva soffiato lo scettro così il fantasma si rivela ad amleto confidandogli che a ucciderlo è stato lo zio amleto ovviamente gli crede un po come quelli che si bevono qualsiasi cosa leggano su facebook e decide di vendicarlo nel frattempo si innamora di ofelia sorella del suo amico laerte a ofelia piace amleto ma laerte le suggerisce di non cedere alle sue avance di non dargliela o per usare le parole di shakespeare di non aprire il suo casto tesoro alla sua insistenza da notare in tutta questa frase non usa la parola scopare alla faccia dei cantanti trappe di oggi intanto amleto mette in atto la sua vendetta ma siccome per quanto sia un abile spadacino non capisce un bel niente di tecniche poliziesche anziché andare dallo zio e sgozzarlo cosa che gli sarebbe riuscita con una certa disinvoltura visto che i vivevano nello stesso castello che fa decide di usare un assurdo stratagemma per sputtanarlo davanti a tutti e farlo confessare una rappresentazione tiratale che rievuchi l'omicidio del padre spoiler in pochi giorni a causa della goffaggine di amleto che pur di agire indisturbato si finge pazzo muoiono il padre e il fratello di ofelia ofelia stessa la madre di amleto che beve il veleno destinato al figlio per ricordare a tutti che le madri non dovrebbero mai darsi all'alcol lo stesso amleto per via di una lama anch'essa avvelenata e ovviamente muore lo zio che aveva dato origine a tutto questo vietnam non rimane in vita praticamente nessuno se non un certo forte braccio di norvegia vecchio rivale del re che si prende il regno di danimarca senza bisogno di combattere cosa ci insegna tutto questo che tra i due litiganti il terzo gode ma non solo c'è una frase che amleto sussurra ofelia nel momento in cui la allontana da sé lui le dice si pur casta come il ghiaccio pura come la neve ma non sfuggirai alla calunnia che tradotto dal mondo del seicento a oggi significa fin tanto che ti preoccupi di quello che gli altri pensano di te appartieni a loro l'unico modo che hai per evitare le critiche e non fare niente non dire niente non essere niente questa riflessione era già attuale 400 anni fa la dovresti inserire nel tuo account social per ricordarti che non puoi piacere a tutti se anche ti apprezzerà una persona su mille avrai 6 milioni di follower nel mondo tanti da renderti fottutamente ricco se sei arrivato fino a questo punto del racconto ti consiglio di leggere il mio libro fanculo il successo per mondadori troverai tanti suggerimenti utili per essere felice e trovare il tuo posto nel mondo con una indipendenza intellettuale da rasentare quella dei monaci buddisti ma ora torniamo a noi siamo portati a credere che le nostre azioni e le scelte che facciamo influenzino in modo significativo chi ci sta intorno e che dobbiamo fare il possibile per non scontentare nessuno dagli amici ai colleghi di lavoro dal capo al partner dai figli ai genitori ma questo razionalismo esasperato non considera un elemento fondamentale del tuo essere sei imperfetto e dunque originariamente programmato per sbagliare non solo non sei infallibile ma l'errore è la tua condizione naturale come disse il giornalista premio pulitzer ebert byerswap non posso darti una formula certa per il successo ma posso darti una formula per il fallimento fa il possibile per piacere sempre agli altri cosa c'entra dunque la raccomandazione di amleto con questo video se tutti seguissimo l'insegnamento del principe di danimarca non avremmo bisogno di supporti psicologici che ci sostengano nei momenti di insicurezza agiremmo a prescindere dal giudizio altrui perché è proprio quest'ultimo il più delle volte che ci ingabbia l'opinione che gli altri hanno di noi può essere importante solo nella misura in cui ci aiuti a crescere costruire migliorarci risolvere problemi ma se questa utilità viene a mancare quel giudizio non c'è più necessario pensaci noi nasciamo sicuri di noi stessi e crescendo che perdiamo questa sicurezza questa fiducia a volte per colpa dell'orgoglio altre volte per le aspettative troppo alte o troppo basse dei nostri genitori la perdiamo a causa del sistema educativo in cui cresciamo che ci giudica in base ai risultati e non ai tentativi oppure perché temiamo il giudizio affrettato degli amici l'invidia dei nemici e la critica di chi ci sta attorno la perdiamo infine per tutta una serie di ragioni esterne a noi il mondo è pieno di persone fantastiche divenute insicure per colpa di gente di merda che ha fatto credere loro di non valere nulla un bambino impara a camminare cadendo mille volte e a ogni caduta si rialza senza demoralizzarsi non ripete sono fallito non camminerò mai più non scappa su google a cercare come imparare a camminare in dieci passi stupendo i tuoi compagni non compra un libro intitolato come convincere tutti che sai camminare senza far vedere che stai cadendo insomma più cresciamo più ci vergogniamo dei nostri fallimenti e tendiamo a nasconderli invece dobbiamo imparare a mandare a fanculo il successo perché successo significa far succedere qualcosa e qualsiasi cosa succeda anche un fallimento nasconde in sé un successo qualcosa da cui apprendere impara che la vittoria è solo la conoscenza la conoscenza nel bene o nel male se stai con una ragazza o un uomo che ti ha fatto soffrire hai avuto successo perché hai imparato a non cadere un'altra volta nello stesso errore ogni tua azione positiva racchiude in sé un successo sta però a te saperlo capire e valorizzare